un caro saluto da diego fusaro un caro saluto a tutti e naturalmente buona fine e buon inizio come si dice in questi casi un caro saluto a tutti gli amici a tutte le amiche a tutti i nemici a tutte le nemiche che si collegano per questa nostra diretta l'ultima dell'anno la nostra diretta quotidiana si chiama il parresiasta che nella grecia classica era colui il quale sbottava la verità in faccia al potere senza curarsi dei nessi di forza come faceva di oggi nel cinico al cospetto di alessandro magno siamo giunti anche quest'anno a fine anno e questa è l'ultima diretta dell'anno poi da domani ci saranno le nuove dirette del nuovo anno e allora ne approfitto per fare a tutti i miei più sentiti auguri di buona fine e di buon inizio grazie ai tantissimi che stanno leggendo e facendo leggere il mio nuovo libro sinistras contro il neoliberismo progressista un viaggio dantesco nei gironi infernali della sinistras che ormai è un fenomeno trash in effetti post comunista il girone della sinistras arcobalene della sinistras green della sinistras europeiste della sinistras imperialista insomma un libro da leggere se vi piace breve e facile grazie a tutti quelli che lo stanno leggendo e facendo leggere prima di entrare in medias res vi ricordo che se ritenete utile ciò che facciamo potete supportare il nostro pugnace gruppo di lavoro con libere donazioni da www.filosofico.net slash sosteneteci oppure abbonandovi alla pagina instagram alla pagina facebook al canale youtube e con il costo di un caffè al mese date un supporto al nostro pugnace gruppo di lavoro il cui motto è liberi di sapere e di far sapere l'anno che si chiude il 2023 è stato un anno denso tumultuoso gravido di contraddizioni e di aporie si è aperto come ricorderete bene con la morte di joseph ratzinger avvenuta il 31 dicembre 2022 quindi l'anno in corso che si sta chiudendo si è aperto con la sede impedita come ho cercato con la sede vacante pardon ratzinger dal 2013 era in sede impedita avendo rinunziato al ministerium ma non al munus e quindi essendo in sede impedita e dunque dal 2023 dal primo gennaio 2023 la sede è rimasta vacante dato che l'unico pontefice ratzinger è morto tesi che trovate espressa anche in codice ratzinger dell'amico andrea cionci l'anno si è aperto dunque con la sede vacante e con bergoglio che ha messo il turbo potremmo chiamarlo il turbo bergoglio dal primo gennaio 2023 bergoglio senza più la presenza contrastiva di ratzinger ha accelerato il passo dell'evaporazione del cristianesimo procedendo magnisitineribus a tappe forzate aprendo la possibilità dello sposalizio per i preti dichiarando noiose le omelie lunghe fino agli ultimi sviluppi con le benedizioni alle coppie omosessuali insomma un processo rapidissimo di evaporazione del cristianesimo che dopo la morte di ratzinger bergoglio ha potuto accelerare per questo l'ho definito un poco scherzosamente il turbo bergoglio l'anno che si sta chiudendo è stato anche l'anno della guerra d'ucraina al suo secondo anno di sviluppo anche se sembra essersi impantanata la guerra in ucraina si è impantanata il guitto zelensky che era il protagonista indiscusso di questo copione scritto a washington è un po uscito di scena i riflettori si sono spostati altrove perché nell'ottobre del 2023 che si sta chiudendo i riflettori si sono concentrati sul medio oriente con lo scontro fra israele e gaza tuttora in corso nella forma di una vera e propria guerra di terrore al terrorismo sceno di hamas ha risposto il terrorismo sceno di israele anche se la comunità internazionale ha condannato solo il terrorismo di hamas senza prendere posizione con uguale tenacia su quello contro quello di israele e il guitto zelensky attore nato con la n maiuscola prodotto in vitro di washington se non di hollywood si è sentito un poco sedotto e abbandonato dato che l'attenzione si è traslata su un nuovo fronte e lui si è trovato un po con il cerino in mano come usa dire adesso addirittura i giornali mainstream ammettono che la russia di putin potrebbe vincere in ucraina nel febbraio 2022 dicevano che sarebbe stata sgominata in due settimane alcuni adesso ammettono candidamente che potrebbe vincere anche la russia di putin sic transit gloria mundi tante notizie a proposito del fronte orientale il sud africa ha denunciato israele per il genocidio di gaza e noi non ci stupiamo che il sud africa compia coraggiosamente questo gesto ci stupiamo che gli altri paesi non compiano un uguale gesto perché la comunità internazionale tace perché non condanna ciò che sta accadendo a gaza perché solo il sud africa compie questo gesto coraggioso ecco una notizia che andrebbe commentata insomma la vera notizia non è che il sud africa compia questa denuncia la vera notizia che nessun altro oltre al sud africa denunzi l'operato di israele ripeto lo sceno terrorismo di hamas certamente condannabile ha scatenato in risposta un terrorismo di israele ugualmente condannabile e però non condannato se non in questo caso coraggiosamente dal sud africa altra notizia che compare addirittura pensate un po sul sole 24 ore l'osservatore romano della globalizzazione neoliberale i cellulari o smartphone che dir si voglia con l'inglese dei mercati ci ascoltano evidenze portate dal sole 24 ore e quindi e quindi siamo spiati ascoltati osservati non è una grande novità per chi abbia letto il libro della zuboff capitalismo della sorveglianza un ponderoso studio nel quale si mostra come il core business come lo chiamano gli anglofoni delle grandi multinazionali della rete sia ovviamente non tanto nelle pubblicità che fanno ma nell'estrazione di dati comportamentali che operano utilizzando i nostri dati per ricavarne informazioni di comportamento buoni a fare profitto in sostanza il capitalismo della sorveglianza per condensare le tesi del ponderoso studio della zuboff opera con due obiettivi in primis controllarci è una società panottica diremmo con jeremy bentan una società a mo di cella di vetro in cui siamo costantemente in gabbia osservati controllati spiati di modo che tutto ciò che diciamo pensiamo facciamo e scriviamo sia sotto controllo il secondo motivo è quello del profitto come dicevo le grandi agenzie del profitto digitale si fondano sostanzialmente sull'estrazione la messa a profitto dei dati comportamentali e adesso anche il sole 24 ore bontà sua riconosce che siamo spiati dai cellulari osservati ascoltati del resto vi sarete domandati anche voi perché quando installate un'app per modificare le foto vi chieda la possibilità di accedere al microfono perché mai questo mistero come mai questa scelta spingica ecco non è difficile capire il perché e credo che sia ormai ante oculus omnium tutti l'hanno capito e ora anche il sole 24 ore lo ammette insomma il 2023 si chiude anche con questa acquisita consapevolezza che in realtà non è poi una gran novità a dirla tutta non è una grande novità a dirla tutta grazie a tutti quelli che stanno intervenendo leggo i vostri commenti vi faccio i miei più sentiti auguri di buon anno che sia un eccellente fine è un eccellente inizio grazie a tutti vi ricordo anche i prossimi appuntamenti dell'anno che sta arrivando ci vediamo il 13 gennaio a san severino marche con andrea cionci poi il 16 gennaio a padova per parlare di amore il 23 gennaio ci vediamo a parma per parlare di sinistras poi anche il 19 gennaio dovremmo vederci ad ascoli piceno nelle marche e tanti altri eventi che vi segnalerò nelle stories qui su instagram qui su facebook e su tutti i miei social seguitemi su tutti i social mi trovate su tic toc facebook youtube instagram twitter anche il nuovo trez di meta e abbiamo anche un canale whatsapp filosofico punto net slash whatsapp anche un canale telegram naturalmente grazie a tutti e grazie a tutti quelli che stanno leggendo il mio nuovo libro ve lo mostro ancora eccolo qua sinistras contro il neoliberismo progressista una critica sferzante della sinistras fucsia dimentica di mars di gramsci e dei lavoratori vi ricordo anche che a metà gennaio parte il mio nuovo corso online la società transumana quattro lezioni per pensare insieme il gender e l'intelligenza artificiale la robotizzazione della vita e la disumanizzazione dell'uomo le lezioni saranno online il lunedì dalle 18 alle 19 30 ma poi sarà disponibile per gli iscritti il video per vederla comodamente anche di nuovo in seconda battuta per saperne di più iscriversi basta andare su www.filosofico.net in basso c'è la locandina con tutti i dettagli il costo dell'intero corso in quattro lezioni è di appena 50 euro dunque è come se regalato anzi potrebbe essere un bel regalo per gli amici o per i nemici per costringerli a pensare grazie a chi già si sta iscrivendo al nostro corso su www.filosofico.net in basso c'è la locandina grazie a tutti e grazie anche ai tanti che mi stanno scrivendo che stanno apprezzando il mio libro sinistra contro il neoliberismo progressista una critica spietata della sinistra sfucsia dico nella quarta di copertina nella sinistra post moderna la falce e il martello della liberazione socialista del lavoro sono iconicamente spodestati dall'arcobaleno dei capricci individuali di consumo la lotta per la società giusta è abbandonata a beneficio delle battaglie per l'individuo consumatore appagato questo processo metamorfico e tragico senza riuscire a essere serio e infatti è trash è un processo trash per questo l'ho chiamata sinistra grazie a chi lo sta leggendo e grazie a chi lo sta facendo leggere insieme anche ad altri miei libri li trovate tutti in libreria o in biblioteca grazie a tutti grazie anche a chi ci supporta in tanti mi chiedono come possiamo supportare il tuo pugnace gruppo di lavoro il cui motto è liberi di sapere di far sapere facilissimo potete prendere i badge su instagram le stelline su facebook le donazioni su youtube abbonarvi alla pagina instagram al canale youtube alla pagina facebook al costo di un caffè al mese date un supporto al nostro pugnace gruppo di lavoro oppure potete fare anche una donazione o un abbonamento da filosofico.net sosteneteci ripeto www.filosofico.net sosteneteci grazie di cuore a tutti e che sia un buon anno per tutti che il 2024 sia migliore del 2023 e sia foriero di successi gioia serenità per tutti noi un caro saluto di buon anno da diego fusaro ci vediamo tra un anno cioè nel 2023 nel 2024 perdono già domani un caro saluto a tutti da diego